Che i dispositivi Nexus siano sempre stati dei prodotti veramente interessanti, questo è innegabile, se poi aggiungiamo che sono stati prodotti in collaborazione con Google e che quindi vengono costantemente aggiornati per quanto riguarda il loro OS Android e soprattutto che il loro prezzo generalmente non è poi così proibitivo, non possiamo fare altro che prendere in considerazione questi smartphone nel caso in cui cerchiamo un nuovo dispositivo da tenere sempre al nostro fianco. Questo è il motivo che mi porta a tre anni dall'uscita di questo Nexus 5X a farne la recensione, per quale motivo? Perché ha appena ricevuto Android 7.0 NoteGut e con questo aggiornamento vale ancora come smartphone o è da buttare via? La confezione ragazzi se proprio ve la devo dire tutta è l'unica cosa che mi ha lasciato con l'amaro in bocca perché al suo interno non c'è nulla di speciale, nulla di particolare, non ci sono le cuffie. L'unica cosa che c'è fuori dall'ordinario è la spilletta che serve per andare ad estrarre lo slot per la sim riposto nella parte sinistra dello smartphone. Oltre a questo c'è solo questo cavetto USB che come vedete ha la stranezza di avere due entrate USB Type-C, due uscite, chiamatele come volete. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è che non si potesse utilizzare come cavo di trasferimento dati, si può utilizzare solo come cavo di ricarica. Ed essendo dedicato al Nexus, agli sviluppatori, essenzialmente mi sembra una scelta alquanto strana. Chi segue un po' il filone Android ragazzi saprà che quando uscì questo 5X ci fu una rivolta popolare verso i materiali plastici che furono utilizzati, però fidatevi che sono veramente di eccellente qualità e tenerli in mano è un piacere. Quindi sotto questo aspetto non posso dire nulla, mi è piaciuto. Per quanto riguarda il display, anche qui siamo a livelli ottimi. 5,2 pollici, IPS, Full HD 1920x1080 pixel, la risoluzione, modalità tablet con Android 7.0, aggiornamento che ha portato veramente molte migliorie. Per non allungare troppo questo video non ve le farò vedere tutte, vi consiglio però la visione del video che ha fatto il mio collega Fulcro e che ha spiegato veramente in maniera molto chiara e veloce tutte le nuove funzioni di Android 7.0 sul Nexus 5X. Ritornando a parlare del display, l'angolo di visuale è forse la cosa che mi è piaciuta veramente di più. È veramente ottimo e la visibilità sotto la luce del sole anche qui è veramente molto molto valida. È ottimizzato il display per la riproduzione di video in 4K perché ovviamente avendo una fotocamera che riproduce e registra video in 4K deve poterli riprodurre e quindi hanno ottimizzato questo display affinché possa riprodurre video in 4K. Come vedete questo è un filmato a questa risoluzione e lo sta riproducendo senza alcun problema. Per quanto riguarda ragazzi la gestione del multitasking delle applicazioni abbiamo 2 GB di RAM, sembrerebbero pochi e invece rispondono veramente molto bene, non si ha nessuna difficoltà ad utilizzare questo dispositivo durante un utilizzo sia quotidiano che stress. Andiamo a parlare poi di fotocamera perché con questo nuovo aggiornamento è stata migliorata notevolmente. Se volete vedere la prova della videocamera la trovate sul canale, link in descrizione. Come vedete con Android 7.0 è stata aggiunta la modalità Phanosphere, ovvero la foto a 360 gradi. La modalità di scatto è abbastanza intuitiva e di risultato devo dire abbastanza apprezzabile. Ma andando a parlare di cose serie che vi piacciono, questo lo so, ovvero i numeri, i risultati di questo dispositivo, andiamo ad effettuare un benchmark con Geekbench 4, l'unica applicazione che utilizzo per effettuare appunto questa rilevazione delle prestazioni del dispositivo, essenzialmente va a sforzare, a far sforzare tutto il dispositivo dandoci un risultato numerico e mettendocelo in classifica rispetto ad altri dispositivi. I risultati sono veramente entusiasmanti, soprattutto per quanto riguarda il single core, che alla fine è la cosa che più conta quando si vanno ad effettuare queste tipologie di test. Come vedete raggiunge risultati eccelsi, soprattutto perché in single core supera il OnePlus 2. Se poi vi state chiedendo se potete utilizzare tranquillamente questo dispositivo per navigare o se ci saranno magari impuntamenti su questo, potete stare assolutamente tranquilli. La navigazione web filerà assolutamente liscia, le pagine si apriranno, si renderizzeranno in maniera veramente molto rapida e anche nel momento in cui dovesse rallentare un attimo nel caricare le foto, vedete che la pagina scorre veramente molto molto fluida. Poi ragazzi, per quanto riguarda i materiali, ne vorrei un po' discutere con voi nei commenti, perché a me invece sono veramente piaciuti molto. Adesso andiamo a vedere cosa c'è su questa scocca. Nella parte inferiore abbiamo il jack e l'entrata USB Type-C, poi abbiamo nella parte destra lo slot per la SIM, la parte superiore invece è tutta pulita, poi frontalmente abbiamo la camera, l'auricolare per le chiamate e l'altoparlante che è riposto qui nella parte frontale, scelta secondo me molto azzeccata. Abbiamo il sensore di impronta digitale che funziona veramente molto bene nella parte posteriore, la fotocamera da 12 megapixel, il doppio flash LED e la messa a fuoco laser. Ripeto che il touch and fill di questo dispositivo mi piace veramente molto, forse l'unica cosa gli spigoli sono un po' spigolosi. Arrivando quindi ragazzi alla conclusione di questo video, io posso dirvi che il 5X per quanto mi riguarda è un device assolutamente da promuovere, considerando anche poi che adesso si trova ad un prezzo intorno ai 260-270€, sicuramente accessibile per la maggior parte di coloro che stanno cercando uno smartphone, tenendo poi in conto che ha ricevuto da poco Android 7.0 che come avete visto ha portato delle notevoli migliorie anche sotto l'aspetto delle prestazioni, perché il benchmark ha dato degli ottimi risultati veramente, il single core addirittura supera il OnePlus 2, quindi tanto di cappello. Per me appunto è un prodotto che va assolutamente preso in considerazione nel caso in cui state cercando un nuovo smartphone.